Il tapino errato di Mirotic dopo il tiro fuori misura di Tonut, vola letteralmente, Tarek Owens inizia come meglio non sarebbe potuta, ma alla fine nelle mani di Zubchic, Milano non riesce a generare così un possesso offensivo, la palla per Tarek Owens. L'imbalzo di Owens prova a correre Giovanni Di Nicolao con la Veronica a servire Poulen, chiude col tapin Tarek Owens. Sokowoski di nuovo prova ad attaccare adesso con Poulen, alza per Tarek Owens, ma che spettacolo al pala barbuto. Napoli... ... 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